Ciao belli miei, benvenuti in questo nuovo ed importantissimo video di Brawl Stars perché oggi andiamo a trattare un argomento molto importante altro tutorial, altro video qua su Brawl Stars sapete che quando ci sono i giochi che vanno molto molto bene io sono il primo a portarci contenuti sopra, soprattutto inerenti al mondo dei tutorial quindi oggi andiamo a vedere come si possono ottenere i gadget e le star power senza troppe difficoltà senza, diciamo, aver il problema della percentuale e aver quell'altro problema là soltanto spendendo tranquillamente monete quindi seguite tutto il video per restare aggiornati vi ricordo che qua sotto trovate tutti i link utili per seguirmi oltre a YouTube quindi su TikTok e Instagram inoltre vi ricordo anche che siamo molto attivi all'interno del mio clan che adesso vi andrò a presentare ed è proprio parlando del mio clan che vi devo ringraziare di tutto il supporto che mi avete dato attualmente per entrare all'interno del clan sono richieste 27.000 coppe siamo e abbiamo raggiunto la top quasi 400 in Italia attualmente siamo 710 in ascesa stiamo giocando veramente veramente tanto sono contento che siate entrati all'interno del clan coloro che sono entrati io sto giocando sempre di più vedete che sono a 29.750 praticamente indirittura d'arrivo per le 30k cercherò di arrivarci il prima possibile devo portare tutti i brawler a 500 che è poi l'obiettivo che mi prefisso io ogni season sto per finire anche il pass a proposito molto molto bene perché abbiamo anche 160 potenziamenti che possiamo andare tranquillamente a riscuotere senza nessun tipo di problema vi ricordo belli miei di seguire il video che vi ho messo vecchi che trovate qua nella playlist cliccabile in modo tale da potermi seguire su vari fronti senza troppe difficoltà vi andrò a potenziare qualche brawler lo andremo a potenziare assieme andiamo a vedere quella che è la tecnica che vi ho detto ad esempio un brawler secondo me molto forte che ha senso potenziare è Yves quindi Yves vado a dargli 550 con le monetozze e vado a sbloccare le due star power dovete sapere che adesso le star power si possono sbloccare non più attraverso tutto il processo vecchio che si poteva fare all'interno del negozio nel quale però c'erano le megacasse da aprire ma si può andare tranquillamente ad alloccare ad unboxare dalla scheda del brawler quindi ad esempio io voglio andare adesso aspettate un attimo che sono qua si vedono poi le mail, le cose particolari eccoci voglio andare a sbloccare per esempio molto banale voglio andare a sbloccare la star power di Yves quindi me la metto schiaccio sopra vado sulle star power e posso scegliere quale delle due star power sbloccare vi faccio questo questa roadmap si possono sbloccare belli miei in questo ordine i gadget a livello 7 del brawler la star power a livello 9 del brawler i gear il primo slot a livello 10 il secondo slot a livello 11 molto importante da ricordare vi ricordo che le star power valutate voi quali prendere quali non prendere ad esempio qua sopra c'è scritto reverses the order of the eggs shot by air egg shooter every 5 seconds quindi ogni 5 secondi the next largest egg eating an enemy of an air egg shooter will spawn a natchling quindi vedete voi quale prendere ad esempio mi piace di più questa mi vado ad unboxare questa ma l'altra non è che non la devo unboxare posso andare ad unboxare tranquillamente anche l'altra sta soltanto a me nella scelta che voglio andare a prendere nulla di più nulla di meno ad esempio andiamo a provare adesso in questa maniera qua abbastanza facile il nostro brawler quindi potenziato perché naturalmente ragazzi vi ricordo che si è potenziato con la star power ha delle qualità in più in questo caso si fa più da anno o comunque cose del genere gli vado a mettere il nostro egg shooter qua in modo tale che vada contro i nostri avversari vada ad alzerare abbastanza il buon il buon avversario il buon pocio anche qua viene annichilito in maniera abbastanza importante e così via qua entra dentro e gg per noi vedete come funziona molto bene ragazzi funziona devo dire veramente in maniera adeguata e ve lo consiglio ovviamente non so se qualcuno di voi lo sapeva io ve l'ho portato perché molti di voi magari giocano da una vita al buon brawl stars e magari si sono persi nel nel da farsi delle cose e questo diciamo questo aspetto qua di brawl stars era mancato un po' e secondo me ha senso perché abbiamo la massima personalizzazione dei brawler possiamo scegliere noi quando unboxare cosa e quindi scegliere quella che più fa parte del nostro stile di gioco fatemi sapere se sapevate e mentre continuiamo a giocare perché qua dobbiamo portare su Yves Yves l'obiettivo sulle 300 coppe è un obiettivo sicuramente che si può fare non è un obiettivo impossibile l'unica cosa che dovete preventivare che comunque ci ci possono essere degli ostacoli in questo caso la vittoria arriva senza troppe difficoltà direi che possiamo fare la prossima partita in modo tale da portarla direttamente a 300 coppe in questo video qua molto 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 easy entriamo subito in maniera importante e cerchiamo di mantenere la distanza corretta dai brawler qua viene abbastanza annichilito il nostro bonny devo dire che viene fatto fuori in maniera anche intelligente lui qua prendo un palo che non bisognava prendere perché doveva entrare queste sono le palle classiche che poi ti fanno perdere la partita è un classicone insomma mi avvicino nella parte di destra senza troppe difficoltà olè benissimo i damage fatti benissimo di qua benissimo di su benissimo di giù ok speriamo che parta o leps o leps o leps o leps niente incredibile ma vero non riesco non riesco a buttarlo giù diciamo comunque a prenderci qualche danno dall'avversario ma niente di così importante niente di così sostanziale andiamo subito di qua attenzione che qua ci annichiliscono attenzione che qua ci annichiliscono ok niente ci bucano la partita delle 300 coppe niente da fare potremmo provare al volo la partita delle 300 coppe ma non è questo il video perché vi voglio parlare anche di quello che è il club shop che sarà l'oggetto di un video ben preciso in quanto abbiamo l'opportunità di andare a sbloccare dei potenziamenti in modo gratuito non voglio andare ancora a spoilerare niente ma saranno l'oggetto del prossimo video in uscita tra poco in realtà probabilmente potrebbe uscire anche domani non lo so di preciso voglio voglio vedere un attimo il tutto secondo me questo è un grande video da far uscire insomma tra poco eccoci qua quindi con l'ultimo parte di questo video importantissimo vi ricordo che vi auguro buone feste come al solito è riuscito il video di Natale di Clash Mini molto molto carino andatelo a recuperare vi ricordo che oggi alle ore 18 uscirà un video short che potete andare a recuperare tranquillamente spero che vi state divertiti spero che il video vi sia piaciuto noi vi ricordo ci vediamo domani alle ore 14 con un nuovo video stasera alle ore 18 con un altro video che uscirà probabilmente su Instagram TikTok non lo so ancora dipende un po' da come siamo messi con la voglia di fare i video e la voglia di fare le varie cose e niente bellini miei ciao a domani a domani